Vittorio Viola Vittorio Viola Non ti entra il raggio Io sono di campagna Non potete farmi fare queste cose Non ho mai studiato E sono autodidatta Al 100% E quindi mi sono improvvisato Ogni volta e ho studiato la parte Di volta in volta Visto che io faccio cose che servono Alla gente Cerco di Immedesimarmi E poi diventa tutto Magico Perché questo qui diventa una lampada Una volta che è acceso Questo ufficio qui Parte molto dal casuale Perché è legato Tutto quanto alla natura Viviamo ancora su questo mondo Che è fatto di natura E se tu trovi una linea Una forma Una superficie La fai tua E poi Cerchi di Trasformarle Dopo la grafica La vediamo all'ultimo momento Insomma Se fare una cosa discreta O se farò una cosa Che urla un po' Meglio fare discreto Io arrivo con un approccio Molto amichevole Molto semplice Non faccio mai Cose sofisticate o complicate E questo per me è vincente Basta no direi Andiamo al mercato Grazie 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 Grazie